Il Movimento 5 Stelle interviene sulla sicurezza scolastica con una precisa richiesta riguardo il nuovo polo che si dovrebbe realizzare a Piano Daccio. Qual è la vostra richiesta? Noi ovviamente chiediamo che non si faccia un lucro su questa situazione d'emergenza in quanto il Comune non può andare a pagare ulteriori soldi pubblici per un eventuale affitto di questi locali ma chiediamo che il Comune li abbia gratis o comunque facendo un accordo transattivo con questo concessionario poiché appunto non si può approfittare di questa situazione di emergenza. Inoltre pensiamo che un qualcosa che è mancato in questa situazione di emergenza, maltempo e sisma sia una comunicazione efficace e diretta nei confronti dei cittadini. Per questo noi proponiamo anche in collaborazione con tutti i consiglieri della provincia di Teramo uno strumento innovativo, il cosiddetto broadcast, per inviare in contemporanea e in maniera diretta un avviso a tutti i cittadini su ciò che sta succedendo e eventualmente su indicazioni pratiche da seguire per gestire il panico e l'emergenza. Questo ovviamente lo presenteremo nel prossimo Consiglio Comunale congiuntamente ai tutti i consiglieri della provincia. Avete fatto anche richiesta di una commissione di vigilanza per quanto riguarda sempre la situazione delle scuole per verificare anche le somme che sono state spese nel corso degli anni. Esatto, se pensiamo che noi abbiamo speso circa 15 milioni di euro fino ad oggi, negli ultimi 5 anni, per lavori a questo punto di tinteggiatura di scuole e ad oggi siamo ancora in piena emergenza, noi vogliamo capire come sono stati spesi questi soldi, visto che mettere a posto un locale a piano d'accio a questo punto costa solo 2,6 milioni di euro. Ecco, con quei soldi noi avremmo fatto due o tre poli scolastici e questo è veramente assurdo. L'ultima richiesta che è avanzata è quella di un contropubblico per parlare di questa situazione delle scuole. Esatto, in quanto il sindaco ha sì detto che c'è questo progetto per trasferire 850 alunni presso il nuovo stadio, ma non ha detto quali scuole andranno a trasferirsi lì. E questo penso sia una questione che interessi tutti i cittadini e che quindi debba essere oggetto di confronto pubblico, confronto consigliare, poiché il sindaco fino ad oggi ha negato un confronto, un dibattito sia in consiglio comunale sia nelle commissioni consigliari competenti.